Vi sentiamo, ciao a tutti ed ecco Furkan, beh guarda, bellissimo, Rossella e Nunzia, non è solo bellissimo, è anche gentile, è anche simpatico, è anche amorevole, non so che altro dire, no veramente, veramente delizioso. Qui ci sono delle fan, lo abbiamo incontrato qui mentre sta facendo una fotografia, un servizio fotografico e qui scrive infatti alle sue fan con affetto, vero Furkan, con affetto. Sì. E allora, allora, scusa, scusa, mi posso fare, Mara? Mara, aspetta un attimo perché qua adesso devo fare una serie di... Faccio subito una domanda a Furkan, se è fidanzato o single? Ciao, Nunzia, ciao. È in Vildo o è single? Questa è la domanda. Nunzia, ciao. Prende tempo, eh, prende tempo, ciao. Grazie per la tua domanda. Sì, sono, sono, sono single da poco. È single da poco, quindi ci sono speranze per le donne italiane? Perché no? Ah, bene. No, vi ho detto che è troppo amorevole, troppo dolce. Cioè, allora, Mara, facciamo fare una domanda anche a Rossella che sta svenendo, prima di svenire. Prego, Rossella. Ciao, Furkan, sono Rossella Erra di Ballando con le stelle. Allora, in turco ti amo, si dice siní seryum. Sì, come, 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 come questo, siní, seviyorum. E allora Furkan parla lì, io, siní seryum. Ben, io, Ben. Io a te. Sì, mi, eh, mi, eh, seviyorum. Sì. Mi, mi, seviyorum, sì. Anche lui a me, grazie, grazie. Ricordati, Furkan, mi raccomando, Selvaggia Lucarelli, no, Rossella Erra, sì. Allora, Mara, facciamo fare un'altra domanda annunzia, intanto io la sventolo, prego. E mi dice, continuo ad essere interessata agli argomenti a cui faceva riferimento Mara. Certo, immagino. Pensi di trovare l'amore in Italia? Eh no, ma, cioè. Do you think, do you think, do you think, do you think, do you think love in Italy? Are you ideally women, women in Italy? Sì, io mean la donna. La donna, la donna ideale, la donna ideale. Sarà italiana. Perché no, mi piace Italia, mi piace Italia. Si è bloccato proprio qua sul più bello. Ma è bello anche così, bloccato. È bello anche bloccato. Allora io vorrei spiegare alle nostre, signore, che questa è tutta l'invidia di Semprini e Marzullo. No, non è vero. E si è bloccato. Però ha ragione, Semprini, è che se si blocca non è affidabile. Allora, Furkan, ti faccio io un'ultima domanda, non riguarda l'amore. Tu sei stato un giocatore professionista di basket. Ecco, tu sei competitivo, vuoi vincere? Vuoi vincere anche a Ballando? Sì. Sì, perché io sono vincitore. Vincitore? Sì. Ah, già vincitore. È fatta, Furkan. E allora hai già vinto Ballando, sicuramente hai già vinto con loro. Sì, mi piace sfida. Bravo, bravissimo. Allora, Furkan, grazie. Sì, io sono vincitore, posso dire che combatterò fino alle morte, ma non morirò. Ho detto, è anche molto simpatico il nostro Furkan. Sì, è molto simpatico. Sì, bella voce. Che bella voce, Furkan è una bellissima voce, sei molto simpatico, grazie. Ti faremo tutti per te. Le donne sicuramente. Grazie Mara, grazie Mara. Ciao. Il livello. Grazie, un buon calore.